Purtroppo l'impegno con il Capo dello Stato aveva delle rigidità di orario e però noi siamo ancora qui ringraziandovi anche per la vostra pazienza e disponibilità e quello che noi dovevamo dire nell'illustrazione l'abbiamo detto e quindi siamo a disposizione, in particolare il Ministro Proponente, il Ministro Giovannini a disposizione per le loro domande. Grazie, allora repilogo brevemente quello che ho detto prima e poi credo che ci sia soprattutto opportunità per domande, osservazioni in modo che possa precisare meglio le cose. Come ho accenato prima questo provvedimento si articola in norme che seguono 5 direttive fondamentali. La prima ha a che fare con l'accelerazione della creazione di posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato soprattutto per giovani e disoccupati. Il secondo asse riguarda invece il tema della attivazione, in particolare dei giovani e quindi ha a che fare con iniziative per anticipare la garanzia a giovani e per creare nuove opportunità di lavoro e formazione per ridurre la disoccupazione e l'inattività. La terza linea di attività ha a che fare con l'intervento in materia previdenziale e di politiche sociali. La quarta riguarda invece il miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro che è fatto di interventi sulla legge 92 del 2012 e la quinta che è strettamente connessa ha a che fare con il rafforzamento delle tutele dei lavoratori ma anche delle imprese. Rapidamente gli interventi principali perché ce ne sono molti che poi leggerete nel decreto. Per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani tra 18 e 29 anni che aumentano l'occupazione complessiva dell'impresa c'è una decontribuzione totale per 18 mesi in caso di nuovo contratto a tempo indeterminato direttamente indeterminato e di 12 mesi nel caso di conversione di un contratto a tempo determinato in un tempo indeterminato. Anche in questo secondo caso però ci deve essere un aumento dell'occupazione quindi è un provvedimento che contrariamente all'incentivo inserito nella legge di Salva Italia di un po' di tempo fa non consente semplicemente la conversione tra tempo determinato e indeterminato senza un effetto netto positivo sull'occupazione complessiva. Questo riguarda il centro nord e il mezzogiorno. 300 milioni sul centro nord, 500 milioni sul mezzogiorno. Su questo provvedimento come sugli altri che riguardano il mezzogiorno le regioni possono aggiungere loro risorse. Quindi l'insieme di 800 milioni per questo intervento può essere poi aumentato attraverso decisioni autonome delle regioni. Ci sono poi fondi per l'autoimpiego e l'imprenditorialità cioè il rifinanziamento della legge 185 questo riguarda il mezzogiorno. Ci sono poi finanziamenti che rifinanziano le azioni promosse da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici questo riguarda il mezzogiorno. Abbiamo poi un aumento della dotazione del fondo per l'incentivazione dell'assunzione di disabili da 2 a 22 milioni questo non lo trovate nel decreto ma è una decisione del Consiglio dei Ministri che emenderà uno dei decreti attualmente in sede di conversione in Parlamento e poi c'è un meccanismo nuovo per cui se un imprenditore non essendo tenuto a far questo assume un disoccupato che beneficia dell'ASPI la nuova assicurazione il montante residuo dell'ASPI non fruito dal lavoratore per il 50% va all'impresa quindi se ad esempio un disoccupato ha 11 mesi di ASPI da ancora godere ecco 5 mesi e mezzo li prende l'impresa se fa un'assunzione a tempo indeterminato questa è una misura che riduce il tempo di disoccupazione e quindi la perdita di capitale umano legata appunto a questo status queste sono le misure principali del primo asse per ciò che riguarda invece il secondo asse che riguarda la garanzia giovani anticipata in attesa delle decisioni del Consiglio europeo e le nuove opportunità per combattere l'inattività soprattutto nel mezzogiorno e anche migliorare la transizione scuola-lavoro ci sono misure piuttosto consistenti che prevedono per il mezzogiorno interventi come borse di tirocinio per NET cioè giovani appunto che non studiano e non lavorano in questo caso stiamo parlando di quasi 170 milioni di euro per il mezzogiorno abbiamo poi borse di tirocinio per giovani qualificati nelle pubbliche amministrazioni sono 2 milioni all'anno come montante per ciascuno dei prossimi tre anni cioè quest'anno e i prossimi due questo riattiva gli stage qualificati i tirocini qualificati nelle pubbliche amministrazioni dello Stato abbiamo poi la possibilità di incentivare l'alternanza studio-lavoro per gli studenti universitari quindi gli studenti universitari potranno fare con un incentivo che deve indurre le università che finora non hanno sottoscritto queste possibilità a farlo attraverso una convenzione quadro con il MIUR per mandare i giovani in tirocinio durante l'università e riconoscere i crediti formativi all'interno dell'università questo provvedimento ci avvicina alle migliori pratiche internazionali in materia e poi ancora la possibilità anche per gli istituti professionali di svolgere alternanza scuola-lavoro anche se su questo al momento non ci sono incentivi particolari infine su questo secondo asse viene creata una struttura di missione presso il ministero per preparare il paese alla politica sulla garanzia giovani che nel caso in cui il consiglio europeo confermi così le anticipazioni che avete sentito anche sui media cioè concentrerà nel 2014-2015 i fondi della cosiddetta garanzia giovani questa struttura di missione metterà insieme regioni province camere di commercio Italia lavoro ISFO il ministero e così via per migliorare l'incontro domanda offerta e disegnare un nuovo sistema di cosiddetta PES cioè Public Employment Services i servizi all'impiego naturalmente anche in collaborazione con il settore privato questo è il secondo asse il terzo asse di cui parlavo è quello delle interventi in materia previdenziale di politiche sociali qui c'è la prolungamento anche qui non lo trovate in questo decreto ma sarà di nuovo una conversione fatto in sede di conversione di un altro decreto della proroga della vecchia social card fino a fine anno quindi da ottobre a dicembre la social card che ricorderete è stata istituita anni fa la decisione molto più importante invece è quella di generalizzare a tutto il mezzogiorno la sperimentazione che è già partita della cosiddetta nuova social card che noi però chiamiamo carta per l'inclusione sociale che è una cosa radicalmente diversa dalla vecchia social card perché perché si rivolge a persone in difficoltà famiglie che hanno famiglie numerose e che non hanno reddito da lavoro e non è soltanto un trasferimento monetario ma è sulla base delle migliori pratiche internazionali un trasferimento monetario condizionato al mandare figli a scuola avere continuità nell'azione sociale se volete e quindi è un vero e proprio sostegno per l'inclusione sociale e non contro l'esclusione sociale che come sapete in Italia in alcune aree è particolarmente forte complessivamente parliamo di 167 milioni di euro per la carta per l'inclusione sociale che riguarderà circa 170 mila individui la sperimentazione come dicevo dei 12 comuni metropolitani è già partita quindi noi generalizzeremo nelle prossime settimane questo percorso che è già stato avviato a tutte le aree del mezzogiorno cosa importante poiché uno dei parametri di questa carta per l'inclusione sociale è l'ISEE noi speriamo che dopo l'accordo in conferenza unificata il Parlamento ratifichi rapidamente questo o meglio non ratifichi chiedo scusa dia il parere richiesto sul regolamento per il nuovo ISEE in modo tale che all'inizio del 2014 non solo parta questo programma della carta per l'inclusione sociale ma parta con i nuovi parametri che ridurranno notevolmente le attuali disuguaglianze dovute unicamente a un parametro non adatto e soprattutto introduce dei controlli più severi sulle dichiarazioni a fini ISEE terzo asse di cui parlavo quello del miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro e qui abbiamo una serie di interventi sulla legge 92 che riguardano i contratti a termine di somministrazione ad esempio riducendo a 10 e 20 giorni l'intervallo tra i contratti così come era prima della legge 92 rinviamo alla contrattazione nazionale e aziendale per ulteriori affinamenti delle condizioni dell'uso di questi contratti quindi maggiore flessibilità ma con accordi tra le parti per i contratti di apprendistato che al momento incontrano diverse difficoltà stabiliamo un obbligo per la conferenza Stato-Regioni di deliberare entro il 30 settembre una semplificazione di questo percorso in modo tale da avere criteri omogenei sul territorio nazionale superando le difficoltà ad esempio delle imprese plurilocalizzate che a seconda di dove sono collocati i propri uffici devono avere a che fare con n regioni per i piani formativi e così via se entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni non raggiungerà questo accordo allora entreranno in vigore delle semplificazioni che sono contenute appunto nel contratto di apprendistato in più una cosa sembra piccola ma importante per chi è interessato a questi contratti evitiamo di duplicare i tempi di formazione degli apprendisti che talvolta devono rifare se si spostano da un'azienda a un'altra lo stesso tipo di formazione istituiamo il contratto chiamiamolo così di gruppo di rete in agricoltura cioè le imprese agricole possono a questo punto assumere insieme un esperto supponiamo di marketing internazionale in modo tale da sfruttarne utilizzarne al massimo le competenze secondo le necessità delle singole aziende della rete sul contratto di lavoro intermittente invece stringiamo la quantità di giornate lavorative che si possono fare in tre anni in altre parole questo è un contratto di lavoro tipicamente flessibile ma con meno tutele per i lavoratori prevediamo che nell'ambito di tre anni si possa fare un ammontare totale di giornate lavorative che corrisponde a un anno completo in tre anni più un po' questo per flessibilizzare ma non per ridurre diciamo le garanzie per questi lavoratori viene anche facilitato l'uso di questo contratto da parte delle pubbliche amministrazioni in particolare locali per attività diciamo così di carattere sociale talvolta i comuni ricorrono a questi voucher per attività spot di tipo sociale ecco riusciamo a semplificare la vita delle amministrazioni nell'uso di questi contratti ci sono poi delle cose per ciò che concerne il lavoro a progetto che ancora chiariamo meglio così evitiamo anche dei contenziosi e poi vorrei arrivare invece all'ultimo asse che è quello scusate al penultimo asse che è quello che riguarda la no l'ultimo asse che è quello che riguarda le tutele qui ci sono dei cambiamenti importanti che vorrei sottolineare se un disoccupato oggi svolge un'attività lavorativa qualsiasi perde lo status di disoccupato e quindi ad esempio non ha più deve pagare i ticket sanitari questo alimenta lavoro nero lo sappiamo benissimo quindi si fissa un limite che è quello esente ai fini dell'imposta sul reddito alle persone fisiche se il disoccupato guadagna in un anno meno di quel reddito mantiene lo status di disoccupato e quindi è un modo per far emergere lavoro nero e dare tutela anche a questi lavoratori estendiamo ai coco pro e ad altre categorie di lavoratori le norme contro le cosiddette dimissioni in bianco che come sapete è una piaga del nostro paese in caso di conciliazione per alcune fattispecie di licenziamento se una delle parti non si presenta al tentativo di conciliazione il giudice ne terrà conto nel suo giudizio complessivo questo riduce la durata delle conciliazioni e obbliga le parti a giocare diciamo così secondo le regole chiariamo che indipendentemente dal tipo di contratto tutti i lavoratori devono avere tutele in termini di salute e sicurezza sul lavoro uguali a quelle dei lavoratori con contratti di tipo subordinato quindi anche in questo caso se volete l'esempio che purtroppo le cronache ci hanno portato recentemente alla luce montare i palchi in occasione di concerti ecco anche tutti i lavoratori devono avere le condizioni assolutamente di sicurezza uguale mentre la precedente normativa poteva essere forse interpretata in maniera non chiara aumentiamo le ammende per le imprese che contravvengono alle normative in termini di sicurezza di igiene era già previsto che avremmo dovuto aumentare in base all'indice dei prezzi degli ultimi anni lo facciamo circa il 10% e poi da adesso in poi si indicizza ogni anno e quindi non c'è più questo meccanismo discrezionale contratti aziendali che sono derogatori di leggi devono essere depositati presso le direzioni del lavoro in modo da consentire un monitoraggio di quello che viene deciso anche positivo attenzione non è un controllo magari ci sono delle idee ci sono degli accordi che possono essere poi generalizzati infine ci sono alcuni aspetti che riguardano i lavoratori extracomunitari e cioè in caso di chiamata diretta di un lavoratore extracomunitario è necessario verificare che una persona con analoga professionalità non sia già disponibile c'è una programmazione triennale non più annuale del flusso di lavoratori extracomunitari in formazione professionale e infine nel caso in cui un datore di lavoro non abbia pagato i contributi a un lavoratore immigrato in ogni caso il lavoratore viene tutelato e poi lo Stato si rifà sul datore di lavoro ma almeno il lavoratore viene tutelato nel momento in cui naturalmente il datore di lavoro inizia diciamo così l'emersione come previsto dalle norme complessivamente quindi si tratta scusate vorrei sottolineare anche che oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il programma per la disabilità che è stato predisposto nei mesi scorsi da tutti i ministri competenti ed è un programma molto importante e interessante che guiderà l'azione del governo nei prossimi anni e di cui naturalmente l'aumento del fondo per i disabili è un passo importante complessivamente quindi stiamo parlando di circa di impegni per circa un miliardo e mezzo per tutte queste attività ci aspettiamo chiaramente è un calcolo teorico perché poi dipende da quanto le imprese vorranno fare che i circa 800 milioni per gli incentivi all'occupazione potrebbero produrre 100 mila occupati in più che i 15 milioni per l'alternanza scuola università lavoro potrebbero attivare circa 10 mila studenti universitari ci aspettiamo che i 6 milioni per gli stage nella pubblica amministrazione potrebbero complessivamente nei prossimi tre anni generare circa 3 mila stagiaire tirocinanti sull'imprenditorialità ci aspettiamo che potrebbero essere circa 8-10 mila i soggetti attivati da queste azioni sul non profit ci aspettiamo un'attivazione di circa 5 mila soggetti per i tirocini nel sud parliamo di circa 80 mila soggetti e quindi complessivamente per ciò che concerne le azioni orientate all'occupazione e all'attività parliamo di circa 200 mila soggetti potenzialmente attivabili di cui circa 100 mila come occupati a tempo indeterminato e 100 mila attivati con gli altri strumenti di cui vi ho parlato invece per ciò che concerne la carta di inclusione sociale secondo le stime finora fatte potrebbe riguardare circa 170 mila individui individui in estrema povertà mentre la vecchia social card da ottobre a dicembre riguarderà 425 mila soggetti quindi come vedete stiamo parlando di numeri importanti anche se sappiamo che è solo un inizio di questa politica il secondo colpo come lo chiamiamo avverrà una volta che il Consiglio europeo questa settimana avrà definito la propria strategia per il futuro una volta che il regolamento sui fondi nuovi europei 2014 2020 sarà stato definito una volta che la strategia per la garanzia giovani sarà definita entro il mese di ottobre come proposto dalla Commissione europea naturalmente tutto questo come ha detto il Presidente del Consiglio si inquadra in un ragionamento più ampio che in sede di legge di stabilità potrà utilizzare strumenti come la flessibilità di bilancio legati all'uscita dalla procedura dei deficit eccessivi anche per riduzioni strutturali del costo del lavoro o sugli altri interventi che il Governo riterrà opportuno fare credo di aver raccontato più o meno tutto a vostra esposizione per le domande Alessandra Testori ADN Cronos intanto se poi sarà possibile poter leggere questo documento per non sbagliare poi la domanda invece è quali sono le condizioni per cui questi giovani under 29 possono accedere a questo beneficio se ci sono e poi sui contratti senza causale di cui si era tanto parlato non c'è niente Le condizioni per accedere a questo incentivo sono quelle europee cioè giovani 18-29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o vivano soli con una o più persone a carico sono le tre classiche o o o esattamente quindi una di queste caratteristiche quindi queste sono le condizioni già utilizzate nel passato per l'uso dei fondi europei e quindi non prevediamo particolari problemi da parte della commissione che comunque deve validare l'uso dei fondi europei a questi fini la seconda domanda invece riguardava la a causalità abbiamo deciso di non inserire qui delle misure che pure abbiamo discusso le avete lette sui giornali quindi insomma dovevano essere vere assolutamente in termini di piano per l'expo e per i prossimi due anni e mezzo su questo abbiamo deciso di prendere un momento di ulteriore riflessione proprio per avere una discussione più ampia e decidere come procedere perché è chiaro che le esigenze dell'expo non sono solo quelle di Milano non sono solo quelle della Lombardia ma vanno al di là e proprio per questo abbiamo preferito non inserire in un decreto legge vorrei sottolineare questo aspetto che riguarda quindi tematiche estremamente delicate quali rapporti di lavoro un intervento su questo aspetto in ogni caso come intervento a regime sulla legge 92 si rinvia alla contrattazione nazionale e aziendale per eventuali deroghe anche a questi aspetti si buona buonasera Alessandra Baldoni di Renews24 allora da un lato io volevo capire questi 800 milioni complessivi per la decontribuzione per quel che riguarda i giovani sono spalmati su più anni e quali sono gli anni all'interno di quali sono spalmati e poi volevo anche capire forse mi è sfuggito come verrà coperta invece in via tre mesi dell'IVA si era parlato di un miliardo il ministro Saccomani ha detto le coperture sono certe però non mi sembra sia stato specificato da dove arrivano queste coperture grazie rispondo alla prima domanda le assunzioni devono avvenire entro il 30 giugno 2015 per poter beneficiare di questo incentivo naturalmente potremmo ragionare una volta disponibili i fondi strutturali nuovi della programmazione 14-20 se ci potranno essere degli altri modi per utilizzare questi fondi anche per incentivare però questo incentivo termina il 30 dicembre il 30 giugno chiedo scusa 2015 per ciò che riguarda invece la copertura lascio al sottosegretario ovviamente il miliardo necessario per il riferimento di tre mesi l'IVA è coperto con risorse nel bilancio dello Stato il salvo intese non solo su questo per la verità sull'intero decreto riguarda la missa appunto di alcuni dettagli tecnici che stiamo definendo quindi diciamo le coperture precise le troverete nel decreto che spero che per domani sia già pronto per uscire ma naturalmente questo posso rassicurare tutto ma è una cosa abbastanza ovvia la copertura c'è è reale e con risorse come dire vere e certe soprattutto perché la cosa importante è che siano risorse certe grazie un attimo un attimo un attimo non ci sono aumenti di natura fiscale cioè non c'è un incremento della tassazione se questa è la domanda sicuramente ci potrebbe essere un intervento sulle sigarette elettroniche quello si lo posso dire Salve all'estate Decozzo e Lanza volevo capire la copertura per i 300 milioni ulteriori per il pacchetto lavoro in realtà per i 500 perché poi ci sono i 170 della social card l'altra cosa che volevo chiedere è se è confermato i 650 euro al mese massimo di decontribuzione e l'ultima cosa un chiarimento sull'articolo 1,2 quando dice deve riguardare i lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni cioè si parla solo di disoccupati cioè persone che hanno perso il lavoro o anche persone in cerchio di prima occupazione grazie rispondo subito 18-29 anni che non hanno un lavoro retribuito regolarmente da almeno 6 mesi questa è la definizione quindi sono sia disoccupati che inattivi per ciò che concerne la copertura dei 300 milioni per il centro nord fanno parte appunto di quello di cui parlava il sottosegretario Patroni Griffi mentre per ciò che concerne complessivamente il miliardo che va alle 8 regioni del mezzogiorno e quindi sia l'incentivazione all'occupazione sia la carta per l'inclusione sociale sia i tirocini formativi e così via vengono da fondi comunitari sono le 24 ore Radio Cor volevo tornare un secondo sull'IVA sulla copertura del posticipo di 3 mesi hai detto che ci potrebbero essere interventi sulle sigarette elettroniche ma ci potrebbero anche essere l'uso di fondi distratti da altre attività e convogliate sull'IVA le risorse le dobbiamo reperire all'interno dei capitoli quindi sicuramente debbano essere prese da altre parti non essendoci incremento della pressione fiscale salvo questo intervento di cui parlava sulla sigaretta elettronica esattamente detto questo se posso dire proprio per serietà io capisco l'esigenza di avere tempestivamente le notizie ma noi abbiamo anche l'esigenza di dare delle notizie certe e quindi ma proprio direi per garanzia di serietà quindi direi che per queste messe a punto loro dovranno avere la pazienza di attendere il testo domani uno dei consigli dei ministri più tranquilli cui abbia mai assistito in questa breve esperienza domande? Alessandro Placi di AGR Radio BK voglio sapere come mai soltanto dai 18 ai 29 anni di età e tutti gli altri? riguarda le regole per cui possono essere utilizzati questi fondi comunitari oltre che per una scelta del governo evidentemente di puntare in particolare sulla disoccupazione giovanile ci torno tra un attimo su questo però vorrei anche ricordare che invece e qui mi dispiace di averlo dimenticato facciamo degli interventi anche di semplificazione sulle start up e sulle società a responsabilità limitata semplificata i famose società a un euro che erano stati orientati in particolare per i giovani che invece possono essere utilizzati anche da ultra 35 anni che era il limite precedente vorrei anche ricordare che gli interventi che recuperano invece i disoccupati quell'incentivo di cui ho parlato prima non si applica soltanto ai giovani per il recupero dei disoccupati in aspi è un intervento che presumibilmente andrà soprattutto a fasce di età non proprio giovanile e quindi in questo senso il provvedimento è equilibrato perché si fa carico anche di ultra 35 anni ma anche ultra quarantenni e ultra cinquantenni proprio per tentare di recuperare il prima possibile il capitale umano incorporato in questi soggetti quindi non è solo occupazione giovanile è soprattutto occupazione giovanile e soprattutto attività giovanile ma è evidente che non è solo quello della Pasqua del tempo quindi per chiarezza per gli over 30 quindi ci sono soltanto delle semplificazioni non ci sono della decontribuzione e poi un'altra domanda se nella definizione del pacchetto avete avuto un riscontro da parte delle imprese quindi di confindustria sulla possibilità di un'attivazione cioè di un recepimento da parte delle aziende di queste forme di decontribuzione cioè mi spiego un'azienda che diciamo mantiene un tipo di fatturato non in crescita se non in diminuzione cioè potrebbe secondo voi essere veramente incentivata a fare assunzioni a forze a fronte di decontribuzioni anche se non ha un aumento oppure un miglioramento del proprio fatturato beh questo è il cuore del problema mi consente anche di rispondere alla domanda del suo collega precedentemente è chiaro che noi abbiamo in Italia imprese in grave difficoltà ma anche imprese in crescita ed è altrettanto atteso anche sulla base degli ultimi dati un recupero produttivo verso la fine di quest'anno cosa stiamo cercando quindi di fare di aumentare l'intensità occupazionale all'inizio della ripresa e non dopo che la ripresa si sia consolidata come operiamo in questo modo da un lato riflessibilizzando di più il contratto a tempo determinato tornando alle interruzioni ante legge 92 dall'altro incentivando i contratti a tempo indeterminato perché sappiamo che non tutte le imprese saranno pronte nella prima fase della ripresa ad andare sul contratto a tempo di lavoro indeterminato ma dobbiamo anche ricordare che abbiamo diffuso i dati qualche due settimane fa se ricordo bene l'incentivo contenuto nel Salva Italia che prevedeva incentivazioni per conversione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato o anche incentivazioni per contratti a tempo determinato hanno visto complessivamente oltre 40.000 domande di cui circa 24.000 accolte di queste 24.000 23.000 erano relative a conversione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato quindi vuol dire che un incentivo per le assunzioni a tempo determinato sarebbe probabilmente stato uno spreco di denaro pubblico perché stiamo dando più flessibilità senza aggravio di costi d'altra parte quell'incentivo come ho detto prima non implicava un aumento complessivo dell'occupazione ma poteva semplicemente determinare uno scambio tra tempo determinato e tempo indeterminato allora questa misura che oggi mettiamo in campo vale per i prossimi tre anni non per i prossimi tre mesi questo lo vorrei veramente sottolineare e quindi sulla base delle previsioni e anche con il dialogo con le parti sociali che ho avuto in queste settimane è evidente che questa è una misura che magari non sarà molto usata all'inizio ma potrà essere usata nel 2014 e nella prima parte del 2015 mentre la ripresa riparte questo è il ragionamento e dietro a tutto questo c'è un tentativo come dicevo prima di aumentare l'attivazione nel breve termine che come ha ricordato il Presidente del Consiglio in un intervento recente è funzionale a superare l'incertezza che in tante famiglie oggi blocca le spese molte famiglie che non sono state gravemente colpite dalla crisi sono comunque in attesa perché magari hanno un figlio disoccupato o hanno un figlio inattivo questo riduce la spesa complessiva anche dei consumi quindi questa attivazione di circa 200.000 soggetti un numero piuttosto consistente vi ricordo che i disoccupati giovani sono 650.000 quindi questo è l'ordine di grandezza ecco questo intervento pensiamo possa stimolare anche da un punto di vista della domanda aggregata la crescita e a quel punto ci saranno più imprese intenzionate a valorizzare a lungo termine il capitale umano un altro argomento sia per il sottosegretario che per il ministro al sottosegretario volevo chiedere se per caso il governo aveva trovato una mediazione per quanto riguarda gli F35 perché c'erano delle idee di mozioni diverse tra le forze di maggioranza che sostengono il governo e al ministro volevo sapere se a lui risulta che il mancato acquisto da parte degli F35 potrebbe avere delle ricadute occupazionali perché si è parlato soprattutto dell'industria che riguarda il Piemonte quello che posso dire ovviamente è un dibattito questo sicuramente all'attenzione del governo anche di recente nelle ultime ore il ministro della difesa però ha in ogni caso chiarito che l'acquisto degli F35 è un acquisto che non è aggiuntivo rispetto al parco auto no al parco aerei della difesa e anzi il numero degli F35 va a rimpiazzare un numero di gran lunga più elevato di velivoli obsoleti e destinati comunque a non essere più utilizzati la seconda domanda stiamo parlando dell'eventuale impatto occupazionale di qualcosa che non conosciamo quindi preferisco parlare invece di eventuale impatto occupazionale di qualcosa che conosciamo cioè il provvedimento che abbiamo fatto oggi grazie grazie anche per la pazienza della doppia rata come dire del primo e secondo tempo di questa di questo incontro ok